buonasera grazie mille di essere qua con noi ringrazio subito i nostri i nostri ospiti Enrico Tesio e Enrico Gagliano che ci hanno fatto l'onore beh Enrico è la seconda volta che viene a Torino spiritualità venne già anni fa e in qualche modo parlammo sempre di errore si vede che questa cosa ti qualifica in modo particolare che bell'esordio proprio così grazie invece Enrico Tesio è la prima volta che viene poi forse non verrà mai più facciamoci le domande anche su quello perché vi hanno chiamato perché sono un po' una perdente di classe l'anno dell'errore infatti devo dire che quest'anno invitare gli ospiti e poi uno insomma manda l'email o telefono e dice ma sai che quest'anno facciamo l'imperfezione ho proprio pensato a te è sempre un po' brutto però insomma loro io sono stata al festival della disperazione esiste dove giuro ad Andrea ad Andrea anche tu e la prima edizione di quel festival l'ho fatta io tra l'altro tutto si spiega vedi allora dunque il titolo che ci siamo dati è ma io dove ho sbagliato è una riflessione poi ad ampio raggio sull'errore però diciamo in generale il titolo nasceva dal fatto che spesso quando uno sbaglia sulle prime pensa di sapere qual è il punto in cui tutto ha iniziato a inclinarsi e ha iniziato a rotolare verso il basso poi non è però così semplice non è così vero perché molte volte i nostri errori risalgono più indietro oppure sono piccoli inciampi inavvertiti che risalgono indietro nel tempo noi magari non ce ne eravamo neanche accorti ma tutto è iniziato lì una catena di cause e di conseguenze che poi finiscono per portare le persone sopra questo palco loro sono prima lo dicevo scherzando ma in realtà sono molto esperti sul tema perché l'hanno trattato entrambi sia in termini romanzeschi sia in termini di saggistica perché spesso nei loro libri si tratta di figure che si trovano a sentire questo grande attrito con la vita questo accade nei protagonisti dei loro romanzi ma Enrico ha scritto l'arte di sbagliare alla grande e recentemente per i ragazzi supererrore Enrico ha scritto tutta la stanchezza del mondo che è un libro su quanto a volte le condizioni fanno pesare su di noi le imperfezioni quindi io vorrei cominciare a chiedervi da subito con Enrico questa ansia da prestazione che tutti abbiamo e il tema di quest'anno poi sostanzialmente nasce da lì da quanto lo sentiamo tutti schiacciante questa cosa che sembra di trascinare le rocce su per le montagne come la vivete voi voi che state spesso anche su palchi dove vi invitano non solo perché siete terroristi ma aspettandosi da voi delle cose abbassando le aspettative cioè il modo migliore è abbassando le aspettative ma lo dico anche con se stessi secondo me io insomma sono qua per caso nel senso che quella la parte un po' anche come Enrico perché anche tu fai un altro mestiere in realtà noi facciamo altri lavori dove sbagliamo in altri lavori io lavoro in pubblicità Enrico un insegnante fantastico amatissimo però di fatto ci siamo trovati a un certo punto un po' per caso a fare quest'altro mestiere lui lui guadagna di più comunque voglio dire rispetto a me però forse invece al invertendo le cose forse nella scuola no guadagno di più nel primo lavoro non ci vuole tanto vuoi dirtelo visto lo stipendio di chi lavora nelle scuole no io il mio lavoro principale cioè quello della pubblicità un lavoro ad alta performance insomma ci si aspettava io mi ricordo quando sono diventata copywriter molto presto perché avevo vent'anni quando sono entrata in questo mondo era c'erano gli anni di madman per dire cioè guardavamo tutti con le serie pazzesche forse quello in realtà è un pochino dopo ma comunque c'era questa cosa di andare e spaccare il mondo no cioè proprio c'era una 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 voglia di creatività di dimostrare poi siamo oltretutto figli del 78 siamo tutti i figli di quelli che invece avevano avevano guadagnato avevano messo le basi no della noi dovevamo essere creativi questa cosa è estremamente ti metto una pressione pazzesca perché siamo quelli della fai della tua passione no il proprio lavoro non lavorerai neanche un giorno perché non ti pagheranno questo non l'avevano detto però no e quindi ti posso dire è questo che pensa cioè per quanto mi riguarda almeno in quella parte della mia vita un errore che ho fatto che fortunatamente l'ho fatto in gioventù e pensare a questa questa idea del fuoco sacro della creatività e della passione cioè del lavoro che dovesse essere così infuocato sempre per tutta la per tutta la vita un po come anche nell'amore quando in realtà ne parlavo prima con una fantastica ragazza che mi ha fatto un'intervista quando in realtà il lavoro come tante altre cose cioè il lavoro deve diventare un mestiere devi riuscire a gestirlo anche nei giorni in cui non ti senti di spaccare tutto eccetera quella pressione lì secondo me ci ha abbastanza abbattuto cioè la pressione del lavoro questa cosa di essere multitasking no che è un altro tema che dicevamo prima che siamo in multitasking che sono diventati molti stanchi quindi questa questi per lavoro incredibile dove tutti dove addirittura il papa si dimise cioè ve lo dico il papa ratzinger per stanchezza si dimise possiamo devo dire dimetterci anche noi e sì io quella quel quello è stato un errore c'è un errore probabilmente legato a quel periodo fortunatamente poi rimesso un po in bolla dai tempi cioè mi sembra che i ragazzi adesso siano un po meno sotto pressione su alcune cose comunque sfuggano un pochino di più a questa logica della della performance della non so se ho risposto alla tua domanda ma e rigiro subito questo Enrico tu che coi ragazzi ci lavori tanto hai questa stessa impressione che ha Enrica che siano meno soggetti alla performance no veramente anzi volevo venire alla curiosità di chiederti come mai hai questa impressione qua perché no veramente io poi forse ce n'è qualcuno anche qua in mezzo che potrebbe magari darci una mano perché spesso siamo noi che parliamo di loro ma la loro voce ci manca dico da mamma no 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 da formatrice di ragazzi che arrivano in agenzia a lavorare con me perché i tuoi figli più grandi quanti anni hanno nel mio è 14 14 ancora non la senti non senti nulla è lì senti ancora molto la pressione delle sue Nike meravigliose che tratta come dei cuccioli di foca ma non ha proprio ancora quella quella però però no mi sembra che poi non si ti ripeto non lavorando con i ragazzi ti lascio tutto lo spazio ma dal punto di vista di chi arriva in agenzia oggi c'è un po' più di senso del limite anche di quello che gli si può chiedere io lavoravo all'inizio ore e ore fuori dal allora sì adesso ho capito cosa forse intendi nel senso che è vero che questa generazione qua non è più disposta a sacrificare pezzi della propria vita personale nel lavoro in questo sì sono d'accordo e penso che abbiano anche ragione veramente perché quello che hanno insegnato a noi era veramente che il lavoro doveva essere prima di tutto anche a costo di buttare veramente nel cammino gli affetti il tempo le cose e quindi sì devo dire che dovremmo da questo lato metterci un po' anche a metterci un po' in discussione non è che anche noi dovremmo un attimino mettere i bei sani limiti per cui il lavoro non può sconfinare io quando ti ho risposto no secondo me no mi riferivo proprio al senso invece di competitività e di ansia da perfezione quello sì quello invece avverto molto forte in queste generazioni anche perché accidenti cioè sono nati vero in un momento storico io non lo so se se avessi 15 anni oggi penso che mi drogherei veramente non è un incitamento però il concetto è che noi con chi ci dovevamo confrontare con il compagno di classe di scuola era quella il campo da gioco era quello mentre oggi si è esteso e ogni due secondi c'è qualcuno di più bello di te pronto a ricordarti quanto la tua vita fa schifo vero perché a 15 anni diciamo siamo onesti con noi stessi ha l'età più bella della vita no assolutamente e quindi vedere appena apri un social così sentire che c'è chi ha una vita più felice della tua con amicizie migliori delle tue e ti senti sempre che ti manca qualcosa io avverto quanto la sentono questa cosa e quanto ci soffrono anche e rispetto a quello che diceva Enrico del fuoco invece che uno sente di dover seguire quel fuoco lì un po' il daimon che ti deve condurre secondo te i ragazzi però questo ce l'hanno magari questo bruciare verso una direzione che però poi non sai tanto capire che cosa sia quello c'è? non lo so nel senso che ti ricordi la scena quella di 900 di Alessandro Baricco fra l'altro che è di qui quella scena del libro in cui no 900 decide finalmente di scendere dalla nave dopo una vita passata sulla nave un bel giorno si fa regalare un bel cappotto si fa tutti gli scalini e arriva lì a un certo punto a metà della scala e si blocca non va più avanti e quando gli chiedono perché alla fine del libro rivela il perché perché c'è troppa c'era troppa vita davanti a lui non sapeva scegliere e dice a noi che siamo invece a terra come se si rivolgesse a noi il novecento quando parla che dice come fate a scegliere una donna come fate a scegliere una casa un lavoro quando c'è tutta questa questa marea di possibilità io credo che oggi chi si affacci alla vita si siano tutti un po' dei novecento con una distesa sterminata di possibilità per cui è davvero molto difficile capire qual è la tua e quale ti calza meglio tanto che e questo per tanti motivi però molti rifanno la scaletta tornano dentro la nave e non intraprendono poi nessuna perché temono di fare la scelta sbagliata a proposito di errori io credo di scrivere le storie che scrivo i libri che scrivo proprio per questo per dire no se vuoi capire qual è la tua perché c'è là fuori c'è sembra impossibile ma c'è quella casa che è la tua casa c'è quella persona o quelle persone che sono le tue persone l'unico modo per scoprire quali sono è scendere dalla nave e sbagliare sbagliare e l'ho imparato sulla mia pelle naturalmente devi sapere che questa cosa qua è nata quando un ragazzino di 15 anni durante una presentazione un incontro con le scuole sai che c'è quel momento no ti fanno le domande loro c'era rappresentavo il mio primo romanzo e lui insomma mi aspettavo la domanda da dove ha tratto l'idea i personaggi si ispirano personaggi reali alza la sua bella malina davanti a ha il coraggio di dire qual è stato il suo peggiore errore della sua vita non è facile davanti a 400 ragazzini pensarci e dire qual è stato il tuo peggiore errore allora finalmente mi ci sono messo è una domanda che dovremmo tutti farci secondo me fa male perché quando trovate la risposta farà molto male ve lo dico non è una cosa una passeggiata arrivare a quella risposta ma quando ci arrivi quando finalmente arrivi a capire dov'è che hai sbagliato che è il titolo anche dell'incontro che facciamo stasera lì improvvisamente tutta la tua vita la guardi da un'altra prospettiva e capisci che proprio quel brutto terribile schifoso errore che hai fatto che avrà sicuramente la caratteristica che non lo hai fatto solo una volta l'hai fatto tante volte sempre lo stesso non uno che poi è lo stesso che si ripete tante volte in realtà è stato è come dire una benedizione una benedizione che era una maledizione mentre lo ne provavi le conseguenze ma che poi ti ha messo proprio sulla strada o su una strada possibile se non altre non ti ha fatto restare lì dentro la nave ecco perché secondo me è così importante raccontare anche proprio la bellezza degli sbagli la 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 forza che ti regalano la 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 grinta anche perché una volta che scopri quella lì è bellissimo quando scopri che cadi e hai la forza di rialzarti poi poi non ti ferma più nessuno non mi ricordo più qual era la domanda iniziale ma spero di aver risposto si perché siamo dei divagatori e questo però tu sai riconoscerlo quell'errore perché secondo me il problema è che adesso molto difficile riconoscerlo l'errore cioè non so io io avevo un fidanzato che mi chiamava Fonzarelli perché sai che Fonzi non riusciva a dire mi dispiace o scusa perché effettivamente io di carattere ho quella cioè mi rendo conto che ammettere l'errore per me è una cosa terribile cioè io se mi devi fare una roba brutta mi sgridi cioè e sono sgridata costantemente da tutti cioè anche quella che sono stata sgridata dalla dalla tipa della quella che pulisce la lavanderia perché avevo lasciato troppo il piumone ma incazzata cioè mi ha sgridato proprio come no ma non si fa cioè in una maniera che ci non è possibile che è tutto così no come quindi tu immaginati io questa cosa del dover riconoscere l'errore l'ho fatto da adulta cioè ho cominciato veramente a farlo da adulta io ho letto il tuo libro tra l'altro e la non trovi che sia lì poi però il punto del diventare adulti cioè crescere proprio riconoscere l'errore più che sbagliare e dirsi guarda che grande minchiata che ho fatto cioè riuscire ad andare oltre quella quella cosa cioè i bambini non lo capiscono di aver sbagliato il più delle volte gli adolescenti non lo capiscono cioè non so forse è proprio non so adesso che mi dicevi se mi dicesse se uno delle persone qua mi dicesse qual è il tuo peggiore errore cavolo non è neanche e questo vuol dire che devi ancora crescere allora eh sì 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 no infatti cioè credo che sia una cosa voi sapreste rispondere senza dubbio qualcuno sì ah l'imbarazzo della scelta anche talmente tanti dici tu ma la domanda è quanto l'hai tenuto sto piumore alla fine perché ah tu devi sapere tanto tantissimo tu devi sapere che io nella casa precedente avevo un lenzuolo fuori da dove stendevo che aveva praticamente l'effigie di padre Pio alla fine perché era lo avevo lasciato nel tempo proprio sono procrastinatrice su questo e c'era una ragazza molto simpatica che è venuta a vivere lì nel palazzo che mi leggeva perché poi Torino è piccina insomma a un certo punto mi scrive su facebook mi dice senti Enrica se non lo togli tu vengo io a toglierti solo perché poi ormai aveva la sua vita però sì l'avrò lasciato almeno un anno tranquillamente faceva bene adesso capiamo anche la signora insomma che lavorava nella lavanderia ma è difficilissima questa cosa però di voler di riconoscere il proprio anzi è difficile decidere di riconoscere il proprio errore a volte io ho un po' il mito di Bip Bip e Vill Coyote e sono cresciuto un po' con quest'idea qui che Vill Coyote quando insegue Bip Bip con tutte le sue poi finisce sempre sul bordo del dirupo se vi ricordate e però continua sempre un po' a camminare nel vuoto perché non si è ancora accorto che ha sbagliato e mi sembra vantaggiosissimo perché finché non si accorge che ha sbagliato continua a camminare nell'aria poi c'è sempre quel momento in cui prende coscienza guarda giù e sbam allora io mi faceva pensare beh però forse se io sono cieco ai miei errori riesco a procedere un po' di più poi non so la mia famiglia non è mai stata tanto d'accordo su questa cosa qua però volevo chiederti invece questa cosa della caduta perché poi l'errore noi lo viviamo come una caduta però si può, adesso ti cito pure, si può cadere felici perché uno dei tuoi più grandi successi il primo libro forse di grandissimo successo era Eppure cadiamo felici quindi Vill Coyote può andare a schiantarsi in fondo continuando a sorridere? io credo di sì che esista un modo di cadere felici, d'altronde anche l'espressione inglese no? non si dice to fall in love ed è bellissimo perché c'è anche il verbo accadere che si costruisce sul verbo cadere quando lasci che la vita accada, scusate se faccio le prof ogni tanto ma devo, la maglietta che stempera un po' anche in francese tombe amore, cadere e amore benissimo e lascia che la vita accada fra l'altro è un bellissimo verso di Silvia Platt che è una delle cose più difficili lasciare che la vita accada ma quando glielo permetti ti fa sempre questi regali quando alzi gli occhi magari dal cellulare o dalle tue multi stanking in cui sei ipnotizzato e ti guardi fuori dalla finestra mi vengono solo citazioni torinesi, quella parte di Santa Maradona vi ricordate? va beh la descrivo un attimo, c'è quella scena Libero de Rienzo, grandissimo attore purtroppo scomparso che parla appunto del fatto che molto spesso ci facciamo distrarre dalle cose stupide e ci perdiamo la bellezza e dice che lui stava andando a fare un viaggio in treno e fuori in paesaggio della pianura c'era un vecchietto che dipingeva, di 130 anni dice, che dipingeva il suo camion tutto di rosso ma lui stava rischiando di perdersi questa immagine perché c'era una scrittina sul vetro del treno che diceva l'amore è una scureggia nel cuore abbiamo gli stessi riferimenti, la sapevo ti vedevo che facevi come quelli che la cantavano in karaoke allora ci caschiamo, quante volte ci caschiamo che siamo lì fissati su quella scrittina lì e ci perdiamo il paesaggio che c'è fuori forse perché effettivamente cadere ci fa paura proprio ieri raccontavo questa cosa che viene dalla mitologia pochi la sanno, Phobos, il dio della paura, di chi è figlio chi sono i genitori di Phobos? Phobos, fobia, le fobie tutte le fobie si costruiscono su questa parola che poi in realtà era un dio, per i greci le emozioni non sono qualcosa che viene da dentro è un dio che ti abita mentre provi quell'emozione quando provi la paura sei abitato da Phobos che è figlio di Ares e Afrodite cioè del dio della guerra e della dea dell'amore però e questo cosa significa? Sì perché vi ricordate che mentre Efesto è lì nel vulcano che bam 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 costruisce cose loro due se ne vanno a spassare e poi dopo lui li intrappola eccetera eccetera e comunque da quell'unione fra Ares e Afrodite nascono appunto diversi figli fra cui Phobos la bellezza del mito secondo me è qua nel fatto che raccontandoti una storia così anche divertente la tresca fra due dei ti ha in realtà spiegato come funziona un'emozione la paura, la sostanza della paura qual è? Ares e Afrodite vuol dire che quando senti quella roba lì, quella paura certo non è una bella sensazione ma è anche un segno un segno che quella, proprio quella è la cosa che devi fare perché è ciò per cui devi combattere Ares per inseguire ciò che ami va bene? ecco perché si può cadere felici ma al prezzo di affrontare la paura e non sto dicendo che sia facile se fosse facile forse non sarebbe neanche così bello però se fosse facile se fosse una cosa per cui non devi attraversare il vuoto fare come Indiana Jones quando vi ricordate la scena in cui deve fare e andare dall'altra parte fare quell'atto di fede proprio alla fine dell'ultima crociata ma penso che sia essenziale e ammetto che uno dei miei più grandi errori vedi è stato tante volte non avere avuto il coraggio di fare quel salto nel vuoto, di cadere felice questa è una cosa, questa cosa qua dell'osare tu prima dicevi il novecento il novecento non scende dalla nave come spesso non facciamo neanche noi cioè anche nelle cose più piccole io lo trovo molto piemontese come atteggiamento noi abbiamo io sono poi fortunatamente mezza toscana che bilancia le cose ma c'è questa formula che è il non mi oso avete presente no? cioè a Torino non mi oso vuol dire cioè è un errore però è non osarsi cioè non permettersi di osare e che è una cosa perché comunque c'è molto il tema qui almeno come qui credo in generale il tema della vergogna del non oso far qualcosa neanche perché come in maniera molto poetica novecento dice perché esistono mille mondi e io non ne voglio chiudere uno solo ma è non oso perché non voglio perdere la mia integrità sociale quasi a volte che è ancora più grave se vuoi non oso far questa cosa perché c'è uno sguardo non mi oso perché c'è uno sguardo che magari neanche esiste soltanto nella tua testa che non ti permette e secondo me quello è ancora più pericoloso come atteggiamento però appunto ci siamo non so qualche piemontese sentivo che non vi siete osate tante volte di osare e senti Enrique invece per imparare a osare l'autoironia per esempio è utile perché i tuoi libri sono pieni di autoironia ma è utile allora l'ironia è quella roba che ti permette di dire che sei il più figo di tutti dicendo che sei il peggiore quindi è un modo è un escamotage se vuoi interessante da questo punto di vista perché in qualche modo stai affermando una tua qualche forma di anche di superiorità adesso dicendola con termini troppo troppo grossi rispetto a quello che però c'è questa cosa del dire il contrario per abbassare per rialzare l'ironia funziona un po' in quel modo questo è il mio figlio che mi sta telefonando quello delle questo telefono è mio quello delle Nike sì, quello delle Nike probabilmente gliel'hanno rubate mentre andava da da qualche parte oggi è così comunque il scusa stavo ho pensato a Lorenzo e alla sua inadeguatezza nei confronti del mondo scusate lo mando a cagare e ritorno scusate perché so che è lui cioè ho la certezza che sia lui è solo pensa quando magari incidentalmente vedrà la registrazione di questo incontro no no ma lo sai io lo lo insulto spesso e volentieri se volete dopo tanto mi richiamerà lo metto qua e la faccio la faccio rispondo io sì rispondi tu mi ha detto ti prego non se non proprio non sta succedendo qualcosa mi sta dicendo sono sul 15 sto arrivando tra 5 minuti dopo 3 minuti sono sceso dal 15 sto venendo a casa e così no scusami riportami sull'autoironia che mi sembra evidentemente rispetto alla no l'ironia guarda io sto rileggendo Calvino in questi giorni perché mi hanno chiesto di fare una cosa sulle fiabe italiane tra l'altro c'è la fiaba di Giovannini senza paura che è proprio quello che stavamo dicendo prima del crescere della paura del sentire la paura anche quella e superarla per crescere e Calvino è pieno di ironia e l'Italia è piena di ironia le fiabe italiane sono piene di ironia rispetto ad altre ad altri ad altri insomma ad altre tradizioni di altri paesi e secondo me è proprio patrimonio nazionale cioè noi io credo che dovremmo recuperarla che non è sarcasmo non è cinismo è proprio quella capacità un po' di alleggerire di riuscire ad autosbeffeggiarsi a sbeffeggiare anche gli altri è più divertente forse non lo so sì poi ti salva un po' a me è capitato proprio recentissimamente la conferenza stampa per il ventennale di Torino Spiritualità che poi devi dire tutte le cose precise allora io mi sono fatto tutta la mia scaletta solo che poi quando dovevo andare a parlare ho stampato quella sbagliata quella dell'anno prima e quindi avevo tutti gli appunti sull'edizione dell'anno precedente che è poi la morte per cui dicevo questa cosa perché fare un festival sulla morte però l'abbiamo per fortuna le persone lì mi hanno aiutato a buttarla in burla perché io non favo così no invece volevo chiederti Enrico da insegnante come si fa a correggere gli errori degli altri qual è il modo giusto? bella bella questa molto bella perché poi ti ritrovi tu dopo una vita di errori ti danno questo compito per cui devi stare tu a a giudicare gli errori degli altri all'inizio io ero un pessimo insegnante pessimo pessimo perché cosa fai? riproduci quello che hanno fatto con te no? cioè il fatto è che nessuno fondamentalmente ti insegna ad insegnare ci sono insegnanti qua? un collegio docenti cos'è? sono tutti un collegio docenti e ti ho detto prima che c'era la probabilità che ci fossero un po' di insegnanti è vero che ti buttano dentro la classe fai vai vai fai e all'inizio non avendo come dire esperienza ti metti a a replicare quello che facevano con te quindi per esempio le cose terribili che facevo erano magari dire l'errore di uno davanti a tutti cioè nel senso hai sbagliato qua adesso ho capito invece che è una fase veramente delicata in cui ti giochi tutto cioè di fronte all'errore capire innanzitutto che non tutti gli errori sono sbagli questa proprio è una cosa che ho imparato e me l'ha insegnata uno di loro di nome Carlo il grande Carlo occhialini Harry Potteriani un metro e venticinque di lui trenta chili bagnato palli di sicuramente uno di quelli che sbagliava sistematicamente cioè ogni cosa poi molto timido molto nervoso tutto così ogni volta calzava la mano era per dire una cosa che non c'entrava niente allora in quei casi l'esperienza appunto mi ha insegnato come si fa devi cercare altrimenti di tirarlo su quindi dargli fiducia fargli vedere che è capace di fare le cose allora un giorno ho avuto la malaugurata idea di cercare di spiegare a una seconda media il senso cioè il significato della parola del termine figurato perché dico malaugurata idea perché per farlo devi proiettare ho proiettato insomma sulla lavagna multimediale a una seconda media la parola fig vi lascio come dire immaginare quanto tempo dopo è ricominciata la lezione perché lì vabbè come fai non è che è un concetto facile il concetto di figurato per ragazzini di 13 anni è difficile anche per me alla mia età capire bene e per cui ci provo così con i sinonimi i contrari quindi volevo il significato letterale la gamba la gamba del tavolo volevo fare il contrario noi quindi prima facciamo il giro largo i contrari e quindi qua la mia occasione è l'occasione finalmente per Carlo ragazzi qual è il contrario di alto? basso qual è il contrario di bello? brutto Carlo qual è il contrario di luce? dai no? vedo che gli si dilata la pupilla come se gli avessi chiesto la formula l'equazione di Einstein no? i ponti di Einstein Rosen quelle cose lì e si guarda intorno così smarrito con i compagni beh sapete alle medie sono anche un po' ogni tanto dai Carlo così no? e lui così Carlo dai il contrario di luce e lui è spenta come è spenta come è spenta quei momenti ecco una cosa che ho capito mettetevela in tasca questa perché veramente l'ho trovata molto utile con i ragazzi hai sempre un primo pensiero non fidarti del primo pensiero è sbagliato neanche del secondo neanche del terzo però insomma soprattutto del primo no perché il primo pensiero qua qual è stato? ovviamente questo non ci arriva questo è spacciato cioè non sai neanche il contrario di luce dai buio ma lì appunto con gli anni l'esperienza forse all'inizio sarei stato un pessimo e li avevi detto sbagliato appunto no devi chiedere perché? perché hai risposto così? dimmi cioè voglio capire il ragionamento che hai fatto e lui che si sentiva a quel punto come dire legittimato mi ha dato la sua risposta e mi ha detto beh prof perché cioè quando è buio è perché sei tu che hai spento la luce cioè capite? c'era cioè mi è passato in due secondi da non ci arriva a Socrate non tutti gli errori sono sbagli in realtà c'era c'era un senso ovvio che nella logica del contrario era una risposta sbagliata ma vedete era un errore che in realtà ti portava a pensare a tutte quelle volte in cui tu vedevi buio ma perché eri tu che avevi spento la luce cioè quanta parte del buio che abbiamo intorno a noi in realtà dipende da noi siamo noi che lo creiamo cioè capito il ragionamento che stava alla base di sto ragazzetto di 12 anni questo appunto ti dice che non tutti gli errori sono sbagli sbaglio ed errore d'altronde sono due parole molto diverse anche se noi li usiamo intercambiabili hanno significati che etimologicamente sono due mondi diversi sbaglio appartiene alla semantica di abbaglio cioè quando non ci vedi bene quando hai la vista oscurata e allora commetti appunto degli sbagli che assomiglia più al concetto di refuso cioè sei distratto sei stanco e sbagli ma errore no errore vuol dire fare una strada diversa errore vuol dire tentare andare senza sapere bene dove stai andando e se uno niente niente si mette a a pensare a alla propria vita b in realtà alla vita di tutti noi quante volte gli errori sono state le cose più belle che potessimo fare uscire fuori dalla strada senza sapere bene cosa stavamo facendo e scoprire sai sei in vacanza prendi vai e trovi la spiaggia bellissima oppure quella sera no non voglio uscire gli errori che poi vi consiglio un libro bellissimo il Telmo Pievani si intitola Serendipità e ah l'ha venuto qua ah ok ecco perfetto lo sapevo Serendipità è un libro meraviglioso perché ti dimostra dati alla mano che in tutte le scoperte scientifiche c'è sempre una parte di responsabilità piccolissima ma a volte molto grande è un errore cioè nascono grazie a degli errori tentativi prove andate male che poi generano nuove scoperte è tanto importante ricordarcelo soprattutto lì in quel momento lì che non tutti gli errori sono sbagli e quindi di fronte agli errori per venire alla tua domanda invece che dire tag penna rossa sbagliato chiedere perché hai scritto così come ci sei arrivato a questa risposta e in questo modo anzitutto loro ti guardano come dire cioè nel senso è come se gli dessi dignità da un lato poi se dopo alla fine arriviamo a capire che è il ragionamento che aveva qualche bias qualcosa abbiamo fatto una scoperta abbiamo capito come non si fa si festeggiano gli errori bene adesso sai come non devi fare è un grande passo avanti in realtà non è un passo indietro dobbiamo smettere di trattare gli sbagli come dei passi indietro in realtà nella prospettiva lunga sono dei grandi passi avanti perché ti dicono da che parte non devi più andare ed è fondamentale capirlo soprattutto quando sei molto giovane perché poi ti dai anche la libertà di errare dopo una volta che riesci a interiorizzare questo concetto vai ad esplorare di più il mondo hai più coraggio di scendere dalla nave e alla fine di vivere la tua vita Enrica io ti lascio la parola immagino che dalle sollecitazioni di Enrico oppure ti chiedo io una cosa ma ti volevo cosa vuoi dire io sono qua io guardo l'unica cosa che posso dire è che però io rivendico anche la possibilità di non imparare niente dai miei errori cioè a me proprio piace ogni tanto dire guarda oggi proprio faccio schifo fino in fondo per un po' cioè poi non bisogna troppo perché veramente anche questo il fatto che tutto poi sia positivizzato cioè che bisogna imparare anche sempre dalle cose a me piace un po' fa schifo per piccoli momenti però poi ci sta un po' terapeutico è terapea poco che questo lo dico contro i miei amici professori io ho avuto paura quando avete alzato tutte le mani gli insegnanti perché sono figlia di maestra mi terrorizza mi terrorizza sempre quando vedo troppe mani alzate qualcuno che lavora all'IMS c'è perché mi serve mi servire non c'è mai nessuno che lavora all'IMS mai cioè non mi serve mi serve qualcuno che mi sbrighi delle cose dimmi dimmi volevo chiederti se rispetto a questa difficoltà di dire dov'è che abbiamo sbagliato se tu sei stata contagiata dal mito cinematografico della slide indoors cioè l'idea che se potessi tornare lì facessi l'altra scelta o le cose sarebbero completamente diverse no su quello guarda recentemente non è di nessun interesse quello che sto per raccontare quindi potete anche andare a schippare ad avanti però in realtà l'ho sempre vissuto in positivo questo sì cioè cose che fino all'ultimo sono stata lì nella scelta non dovevo dovevo non dovevo che poi invece si sono rivelate con un po' di tempo come diceva prima Enrico perché poi diciamo che l'errore si svela nel lungo periodo cioè l'errore o anche la cosa giusta si svela nel lungo periodo che ho detto guarda pensavo di no invece è proprio stata la scelta giusta ed è una cosa recente cioè dovevo andare a lavorare per Armando Testa non ci sono andata così se c'è qualche direttore creativo dell'Armando Testa non ci sono venuta però ho fatto bene perché insomma sono successe delle cose dopo però questa cosa della Sliding Doors quel film naturalmente amatissimo in realtà tutte e due le strade poi che scegli portano ogni scelta genera una perdita questo non lo dico io diceva rotto e forse lo diceva anche qualcuno più in alto di lui prima però l'idea che non debba quello che ti sembra subito una scelta tu curo comunque quindi un errore da una parte o dall'altra spesso non lo è cioè semplicemente la vita ti mette di fronte a delle decisioni che è sempre meglio prendere prima che ti prendano loro cioè cosa che in generale io sono per prendere un po' in mano la situazione perché almeno non hai rimpianti e vai avanti però questa cosa è una bella domanda perché capita tu sei un po' psicologo ninasci psicologo sei un insegnante pure te lavora all'Inps lavora all'Inps forse sì potrebbe perché guarda non si impalesano mai quindi sono sotto ventite spoglie in realtà da libero professionale una cosa che ti volevo dire però che volevo dire anche su questo tema dell'errore perché ci penso ci penso spesso è che l'errore in realtà non è detto che sia un errore perché te lo impone qualcun altro cioè il fatto che tu stia sbagliando vuol dire che in quel momento stai deludendo uno sguardo o altro di cui parlavo prima e e su questo mi piace citare mio papà perché è un professore così almeno siamo siamo il professore perché mio padre che è un po' paraculo un tempo mi disse guarda Enrica crescere e imparare a deludere capite che è un po' paracula come espressione crescere e imparare a deludere in qualche modo ti mette nelle condizioni che questa cosa che lui sia stato deludente quantomeno però in effetti è vero e quindi crescere imparare che gli altri ti pensino sbagliante cioè che tu abbia sbagliato qualcosa nella fattispecie nella sua vita lui lo cita sempre rispetto a sua madre lui è rimasto molto presto orfano aveva veniva dalla campagna piemontese da pancaglieri ridente paesino credo che sia il più brutto paese del mondo cioè non so se conosce però è veramente si attesta tra i peggiori dopo Forlì forse visto che c'era ieri no comunque dalla campagna piemontese a questa mamma che lo vuole prete cioè perché essere preti era anche l'unico modo per poter studiare quindi lui inizia il seminario che era anche veramente l'unico modo per andare oltre questa famiglia contadina d'origine e poi a 14 anni scopre cos'era figurato la parola giusta l'ha figurata e quindi capisce che non può fare il prete cioè ha una specie e lo dice dice guardate io continuerò se posso studiare ma proprio non posso fare il prete questa cosa uccise mia nonna ma veramente nel senso che poi morì poco dopo davvero e subito cioè tutti questo fu un errore per lui ai tempi no? ma mio padre sarebbe stato totalmente un'altra persona se non fosse andata così la vita quindi in effetti dare delle delusioni quindi fare degli errori rispetto a un occhio che non è l'occhio tuo cioè non è la tua indipendenza il tuo pensiero su te stesso è molto cioè lo reputo non ci sarei stata io probabilmente se mio padre avesse fatto il prete forse sì lo stesso perché era un po' furbese è sempre stato furbese ne hai per tuo figlio per tuo padre ne ho per tutti c'è proprio una infatti dico sempre avete avrete per gli psicologi avremo un futuro insomma daremo daremo soldi in questi giorni con alcuni ospiti quando capitava informalmente chiacchierando di chiedere qual è stato il momento in cui hanno sentito maggiormente la propria imperfezione statisticamente molti hanno risposto il giorno della maturità e volevo sapere sì perché quello è stato il giorno dell'esame di maturità che in molti l'hanno considerato il momento in cui si sono dovuti massimamente misurare con una valutazione che avrebbe dovuto definire se erano pronti ad essere adulti oppure ancora no agli altri non l'ho chiesto però adesso ve lo domando a voi ma voi avete rispetto alla maturità qualche memoria che particolarmente vi ha fatto vi si è scavata nel cuore e ancora ci tirare fuori questi incubi della gente la mia maturità è stata orribile io avevo una materia su cui puntavo tutto italiano ovviamente il compice italiano era lì che dovevo tirare su tutto perché poi sapevo che matematica sarebbe andata malissimo e così siccome la maturità del 96 forse qualcuno c'è qua che ha fatto quella maturità lì ricordate prima traccia promessi sposi vai vai facile è proprio un rigore a porta vuota vai coi promessi sposi no io voglio fare il figo e scelgo la traccia numero 4 rapporto fra matematica e poesia vai Galliano vai dai il meglio di te comincio prima riga scrivo sì rapporto fra matematica e poesia è finisco la frase dopodiché parto a parlare di 2001 di sé nello spazio di Kubrick che non c'entrava niente ma perché ero convinto di aver fatto sicuro ho fatto il tema della vita sì arrivo lì all'orale me lo tirano fuori dico no questo qua l'abbiamo già mandato a Feltrinelli per pubblicarlo tranquillo il presidente della commissione mi dice ma Galliano ma lei ha letto la traccia me lo dica perché qua non abbiamo capito di cosa ha parlato per quattro fogli protocollo di sproloqui di ogni tipo quindi sì è vero lì ho avuto un bel frontale con una grande mia imperfezione che è l'andare di vagare come dicevamo prima sempre fuori tema ma penso che il fuori tema sia in realtà la radice proprio di chi ama giocare vivere di fantasia vivere di storie nascono così nel momento in cui ti guardi dall'altra parte se fate caso per esempio una delle serie più belle mai esistite i Simpsons funziona così lo schema di ogni puntata i primi 5 3-4 minuti diciamo sembra che si parli di una cosa ogni puntata è così e poi vira e va dall'altra parte e Matt Groening l'ha spiegato che il processo creativo è così loro in realtà ogni volta vogliono parlare di quello ma non ce la fanno partono e si va a parlare di tutt'altro quindi sì alla fine l'imperfezione è un tema a cui sono veramente affezionato una cosa che ho scoperto in questi giorni mentre lavoravo lo spettacolo che ti raccontavo prima è che la Gioconda oh mi sono giocato qual è il più grande dipinto spenta bravissima non lo sapevo chiedo scusa per l'ignoranza innanzitutto che la Gioconda è incompiuta l'ho scoperto poco tempo fa che Leonardo l'ha portata con sé per tutta la vita e ogni tot si metteva lì tirava fuori correggeva sistemava e poi che è piena di imperfezioni cioè imperfezioni dappertutto il paesaggio dietro che non è simmetrico il sorriso che è così enigmatico perché perché in realtà una metà non sorride l'altra metà sorride quindi anche lì c'è una grande imperfezione e poi queste manone che c'ha la Gioconda che sembra Gianni Morandi praticamente cioè il quadro dove tu devi fare quanto fai un'ora di fila ogni volta per riuscire sai arrivare lì davanti a guardarti questa tela il più famoso al mondo in realtà è un coacervo di imperfezioni quindi forse forse sarebbe bello se ci ricordassimo un po' di più che il nostro fare schifo a volte anche è ciò che ci ha che ci rende noi e ci fa anche fare la pace col fatto che è sacrosanto che in qualche cosa facciamo schifo che abbiamo quei nostri quelle nostre imperfezioni che ci rendono poi anche unici vi ricordate quella scena bellissima di Will Hunting Genio Ribelle quando Robin Williams dice che sua moglie scorreggiava nel sonno mia moglie scorreggiava durante il sonno e a volte faceva così forte che si svegliava lei col suo stasera è la seconda volta che parlo di scorreggia ho notato stavo pensando ma che cosa strana sarà freudiano anche questo vabbè cosa dice poi Robin Williams che uno pensa che queste cose qua siano quelle in realtà è proprio vero che in un rapporto d'amore ma anche in un rapporto di amicizia alla fine sono quelle le cose a cui ti leghi di più quei piccoli difetti quelle cose che magari agli altri darebbero tanto fastidio alla fine sono quelle le cose che ti mancano e che ti restano più attaccate non so se avete avuto l'esperienza mi auguro per voi di no insomma di perdere una persona amata ma è veramente così di quella persona poi finisce per mancarti proprio ciò che in vita magari ti dava fastidio ed è come un non lo so c'è qualcosa di magico in questo che in quella cosa che quando erano vivi magari tu non li sopportavi adesso invece non vorresti altro che sentire quel rumore che faceva con la bocca che non sopportavi mentre era vivo forse quell'imperfezione lì è un dono ecco questo volevo dire è un dono che abbiamo e dobbiamo stare attenti a cancellare questo dono e a nasconderlo agli altri perché avere anche la fortuna di poterlo regalare a qualcun altro è ciò che poi rende quel rapporto unico e insostituibile è vero e su questo non so se adesso la rendiamo un po' troppo tetra forse non lo so ma più che le cose che il legame per esempio con mia madre che non c'è più ne ho scritto recentemente di questa cosa ma perché mi ha molto colpito quando l'ho provato e il legame con lei nelle cose che non mi ha insegnato nelle cose che non sapeva fare neanche lei che sono le cose che non so fare neanche io e questa cosa mi intenerisce incredibilmente cioè quest'estate vedendo avete presente non so che tipologia di persone siate però io ho scoperto che c'è gente che va in spiaggia con un pareo ok sotto e poi mette la spugna sopra ok cioè questa lo sapevate siete persone brutte se lo sapevate perché è una cosa incredibile io mentre guardavo questa cosa c'è veramente incredibile che si fa così quando scopri che si fa una cosa in un modo che non avevi mai pensato guardavo i miei teli da bidet che porto in spiaggia perché io non ho dei teli da mare cioè sono quella tipologia lì che non ha mai comprato le mollette per i panni perché si ereditano da qualcuno cioè non esiste acquistare si ereditano e questa cosa mi guardavo e dicevo esattamente come mia madre cioè nessuno mi ha detto che si comprano i teli da mare si fa questo e quest'altro così come il migliore di cose che faceva lei ed è proprio nell'imperfezione che capisci cioè nella tua imperfezione è ancora di più cioè è quasi una nella tua imperfezione in qualche modo dai all'altro la possibilità di essere stato imperfetto forse funziona forse di più con i genitori che con gli altri però nel rapporto con i genitori secondo me è molto forte questa cosa ce lo perdoni c'è il perdono del fatto che siano stati imperfetti come te stai cercando di farti perdonare da tuo figlio non ha più chiamato hai visto incredibilmente non ha più chiamato non è vero mi ha mandato un messaggio su whatsapp però sappiatelo che però è stato eliminato c'è un modo per leggerli sai anche quelli eliminati su tutorial su tiktok che bravo adesso me lo spieghi questa cosa è incredibile ti chiedo ancora una cosa Enrica la maturità no no a meno che tu abbia un no no io la maturità l'ho rimossa però io ho dato l'esame della patente quest'anno per la prima volta nella mia vita è molto peggio fare la patente a 46 anni è peggio che la maturità la patente anche io ho penato tanto si ma quante volte mi hanno bocciato quattro volte e madonna e guidi? si siamo sicuri? adesso si però preferibile poi c'è sempre mia moglie che mi dice vuoi che guidi io? eh quattro volte? credo che non sia più possibile tra l'altro con la nuova ti regalano una bici tra i 18 e i 26 anni però non è che proprio ci andassi giù continuativo perché poi mi prendevo il tempo per maturare ragionarci su che bravo tu vinci perché in questi mesi ho chiesto vinci cioè non ho mai sentito nessuno bocciato quattro volte alla teoria o alla pratica? alla pratica sempre alla pratica no sì sì una volta ho tamponato la teoria primo colpo teoria è il primo colpo perché sei un intellettuale era un po' quando mettevo le mani sul volante che venivano fuori le magagne no volevo chiederti se anche dopo che ti sei goduta per un po' il piacere di fare schifo per i tuoi errori se poi i tuoi errori hanno avuto degli esiti su qualcuno se sei brava a chiedere scusa no faccio schifo no faccio schifo è pessima pessima chiedere scusa terribile terribile no no ma io ho un problema poi con l'invecchiamento lo dicevi prima che ti chiamavano fonzarelli però pensavo che magari questa fosse proprio solo nel rapporto intimo con la persona ma che invece poi nella tua vita sociale se ce l'hai allora tu lo sai che uno ha tutta una serie di strumenti che ti permettono poi di forzarti ma proprio mi viene scusa faccio molta fatica no faccio molta fatica devo ammetterlo però è anche faccio molta fatica anche che credo che sia un grandissimo mio limite ma lo dico con insomma conoscendomi un po' e sentendo anche parlare a Enrico che invece è bravissimo a insegnare credo che sia stato anche bravissimo a imparare cioè tu sei uno probabilmente che sapeva imparare cioè è un'arte sapere imparare io non sono brava a imparare tu sei brava a imparare sì 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 sei brava cioè uno bravo a insegnare secondo me è anche un bravo a imparare cioè che si è messo capito come dopo sì sono diventato dopo gli anni della scuola sono andati un po' così no no ma io non tanto sai che la scuola come attitudine generale ci sono ragazzini scolastici che sono bravissimi a scuola che non stanno imparando nulla dalla scuola però no no come attitudine l'imparare per quello che la questione per esempio della patente che adesso sembra una battuta ma mettersi a fare qualcosa di totalmente nuovo io non avevo mai messo le mani sul volante nella mia vita quindi totalmente nuovo ti mette di fronte a dei limiti cioè siamo veramente principianti tutti cioè in qualcosa nella mentre io ho sempre rifuggito un po' le cose dove ero principiante davvero cioè dove questa cosa non riesco a farla benissimo non la faccio no come che è un limite enorme cioè tra tutti i miei difetti credo che sia il peggiore e adesso non so se c'entri proprio col chiedere scusa però il fatto di essere colta in fallo quindi nella mi pesa enormemente e io lo so di aver sbagliato cioè questo adesso un pochino me ne rendo conto quando sbaglio quando faccio degli errori ma fatico tantissimo poi chiedo scusa imponendomelo cioè però ma scusa posso chiederti se vuoi come mai a 46 anni alla fine hai deciso di prendere la patente perché me la davano in ufficio mi davano la macchina aziendale me la davano cioè io l'ho chiesta lo stesso anche senza patente loro mi hanno detto no non te la diamo non te la diamo allora ho detto io non lo so se lo sai ma insomma a casa nostra siamo in sette ci siamo tanti e insomma la macchina serviva poi abbiamo una macchina orribile quella che c'è tutta scassata l'ho detto no vabbè facciamolo cioè mi sembra una cosa no come è anche un po' per arrivarci prima dei miei figli ad avere la patente per poi poterli insultare e urlare in macchina perché si impara solo così a guidare con qualcuno vicino che ti urla che sei un cerebroleso tutto il tempo cioè così è proprio il modo non so c'è qualcuno che l'ha imparato in un altro modo a guidare cioè tutti di solito hanno un padre o una madre che li ha insultati fortissimo proprio come è urlando tirando fregni a mano i luoghi e alla fine no comunque questo io ti giuro non lo farò ma ho pensato seriamente di scrivere un libro su questa cosa dei principianti cioè della mia attività guidatoria dell'ultimo anno perché mi ha aperto delle strade alla mia quarta bocciatura sempre con la stessa scuola guida il mio insegnante di scuola guida quando sono stato bocciato è crollato con la testa sul cruscotto e si è messo a piangere no poveruomo ma fatto è mio figlio scusatemi Lorenzo sì dove sei? faccio tantissimo da regalare su un senso che lo sciopero lo sciopero e dove sei? è il Piemilano si ma mamma dov'è? a teatro bravo e tu va bene ok ciao amore ciao 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 c'è il sciopero c'è il sciopero non è assolutamente vero ce lo sapevo tutti è terra madre che crea complicazioni oggi l'ultima domanda che vi faccio è se al momento siete al lavoro su qualche prossimo errore qual'è la citazione sono al lavoro proprio sono sto preparando qual'era? brecht? brecht sicuramente sicuramente ne faccio tipo uno al giorno minimo sindacale con mia figlia perché è proprio una specie di legge universale non si tratta credo che coi figli non si tratti neanche di capire se sbaglierai ma quando sbaglierai nell'arco della giornata quando farai una cosa che già sai che poi ti verrà rinfacciata a distanza di un sacco di tempo quindi sì sicuramente da quel lato ne farò un sacco ma anche insegnando se ne fanno un sacco anzi penso che sia il mestiere ha più alta probabilità di errore perché hai di fronte 20 barra 25 ragazzini la stessa cosa giusta che fai con uno e ti fa quindi invogliare a ripetere un processo poi lo ripeti con un altro e invece fa guai fa danni quindi forse da quel lato lì ne sto preparando un bel po' era difficile vero? e tu Enrica ne hai uno che gli che bolle moltiplica lui ha una figlia sola moltiplica per tre gli errori che posso fare io e quelli ce ne sono ce ne sono tantissimi mi piace che non chiamino anche gli altri però a questo punto infatti delle domande su questo una è troppo piccola una è troppo piccola ma urla cioè probabilmente la senti se ti fai così senti ma no perché non abito tanto lontano e l'altra è più ci sta dentro cioè Lorenzo ci sta dentro non si capisce è adorabile io sono innamoratissima dei miei figli però è così cioè quello che quello che diceva prima Enrico sull'imperfezione e il fatto che tu ami negli altri le imperfezioni è una cosa che non abbiamo non abbiamo parlato per niente stasera del mondo social di quel mondo lì da cui veniamo tutti e due in qualche modo abbiamo tutti e due quell'aspetto e degli errori in quell'ambito di come di come vengono vissuti cioè i social sono un posto dove tu ti ami ti metti il cuore ti piaci tantissimo fin quando l'altro non dice una cosa che ti dà fastidio allora l'altro ti dice una cosa che allora no mi hai deluso mi sei scaduto tantissimo buona vita e si chiude lì di solito invece nel mondo normale nel senso nel mondo quotidiano e lì è la frequentazione fondamentale la relazione fondamentale tu ti ami nonostante le imperfezioni e a maggior ragione dalle imperfezioni dalle cose che all'altro non ti piace non ti piacciono cioè io i miei figli lo dico sempre sono la cosa che amo di più al mondo non c'è niente che ami più di i miei figli ma ogni tanto non li sopporto cioè proprio mi stanno sul culo e sicuramente loro loro lo provano per me cioè sicuramente anch'io sto sul culo sicuro proprio però è così liberatorio è così bello che noi lo sappiamo che ci vogliamo bene cioè che ci amiamo e quel nonostante quel nonostante le cose che magari possiamo dire che non ci piacciono nonostante quando mastichi che non ti non ti però alla fine dei conti l'amore è quella cosa lì cioè il non piacersi sempre cioè ci piacciamo meno ma ci amiamo tanto secondo me questo può essere una un buon un buon esempio di amore reale pieno di nonostante ma anche di relazione sì in realtà io adesso mi è venuta un'ultima domanda anche perché ho iniziato con Enrica allora bisogna chiudere con Gagliano se no poi pare brutto e non torna più no in realtà volevo domandarti all'inizio hai detto una cosa hai parlato un po' dei nostri errori matrice che uno fatica a riconoscere che li replica sempre tanto ma tu tu questa cosa l'hai capita a livello teorico o proprio rispetto a te tu sai qual è il tuo errore matrice che ti sei sempre portato dietro sì sì lo so perché poi quando quel ragazzo mi ha fatto quella domanda sono partito e alla fine l'ho trovato come se l'ho trovato il mio errore matrice bella questa piace l'errore matrice mio è stato vabbè chi mi conosce l'ho raccontato mille volte che l'ho fatto a nove anni quando i miei compagni di classe sapete no i maschietti un po' alla scuola primaria hanno sta cosa un po' che devono e c'era il calcio di mezzo e mi ricordo quel mattino insomma dove i miei compagni sapete che poi i maschietti quando parlano in cerchio devono fare così con le spalle io so fare venti palleggi e si vantavano no così io trenta e tu Enrico quaranta no proprio quattro perché insomma quella ferita perché a nove anni è una ferita cioè nel senso ti senti umiliato e volevo rimarginarla in qualche modo e allora mi sono messo lì l'impegno per riuscire a fare a fare anch'io tanti palleggi però com'è andata che a un certo punto sono arrivato a nove e avevo capito che volendo potevo arrivare anch'io facilmente a venti e trenta ma mi ero posto per quel pomeriggio l'obiettivo dieci e quindi al decimo pur potendo fare undici, dodici, tre dici, quattordici, cinquindici buttato via la palla esultando anche così e poi basta però mi sono fermato a dieci e quella è proprio la matrice di tutti perché poi ho visto che nella vita ho sempre fatto così l'ho sempre rifatto ma sempre più grande però perché questa è la cosa assurda degli errori non solo li ripeti ma poi si ingrossa cioè è come una valanga che ti si precipita addosso il famoso concetto della camicia no se sbagli il primo bottone poi li sbaglierai tutti quanti e mi è capitato di siccome la mia adolescenza è stata una caporetto di friendzone cioè era uno schema che si ripeteva costantemente mi piaceva una e arrivava eh ma Enrico io ti vedo solo come ero arrivato a toccare veramente vette everestiane di friendzone quando quella che mi piaceva più di tutti la Daniela mi disse che mi vedeva come un fratello che dovrebbe essere vietata dalla convenzione di Ginevra questa frase qua vero a me è un cugino in qualche paese può essere legito infatti e poi mi capita questa benedizione del cielo che a 17 anni vedo tutte le mattine alla fermata della Corriera questa ragazza bellissima stupenda che tutti tutti ne andavano dietro ma io consapevole di essere uno sfigato neanche ci provavo e un giorno il giorno della finale Italia-Brasile 1994 17 luglio mi ricordo giorno mese anno al pomeriggio mi chiama a casa mi chiama a casa lei per dirmi questa frase e c'è la partita stasera e io che balbetta potremmo andare in piazza a vederla c'è lo schermo gigante no ma sai se vuoi i miei genitori vanno a vederla a casa degli zii e io che ero esattamente come tuo figlio risposi ma quindi devo venire dagli zii anch'io non ci arrivavo non ci arrivavo insomma io ho passato la sera del 17 luglio la finale io l'ho vista sul divano della ragazza più bella del paesino dove abitavo seduti fianco a fianco e a un certo punto ho questo ricordo nitido del mio ginocchio scusate mia vicina il mio ginocchio sinistro che sfiora il suo ginocchio destro è stato il momento più erotico della mia vita una cosa incredibile e lì di nuovo i dieci palleggi ah basta io sono arrivato io le ho toccato il ginocchio io sono contento così e i genitori vi eravamo da soli era luglio capite i grilli fuori tutto perfetto era un disegno perfetto a un certo punto proprio mi giro verso di lei a partita finita e le dico sta frase e Roberta si chiamava Roberta senti ti va se io e te rimaniamo solo amici giuro racconto questa gara ormai è emblematica proprio le ho detto così perché qual era il mio intento anticiparla no io sapevo che mi avrebbe detto che mi voleva come un amico me lo sentivo proprio così e allora stiamo solo amici così ti frego no sì peccato che vent'anni dopo sapete i primi social facebook come li abbiamo usati un po' tutti noi anziani ormai le prime volte che c'è andavi a vedere le ex queste cose e mi ho iniziato a scriverci nel 2009 ci scrivi 15 anni dopo ci scriviamo lei a un certo punto mi fa si era sposata nel frattempo sposata con due figli e mi dice senti ma ti devo fare una domanda io sai ma quella sera no ti ricordi ma più o meno quella sera lì ma tu ma perché mi hai detto tu mi piacevi tantissimo mi ha scritto io tutte le mattine non vedevo l'ora che passassi con la bicicletta davanti alla fermata della corriera sapete perché è peggio di così e giuro che mi ha scritto così il giorno che mi sono sposata si è sposata a 21 anni lei giovanissima il giorno che mi sono sposata mi sono girata verso l'ingresso della chiesa sperando che entrassi tu che ci avessi ripensato capito? il figlio si chiama Enrico di sicuro perché no perché il marito sa della mia esistenza e quindi il marito non mi può vedere proprio anzi e quindi questo è il mio errore matrice che ho continuato a fare arrivare fin lì e al momento buono mandare tutto all'aria in realtà perché cosa? per il famoso concetto del accetti l'amore che credi di meritare cioè tu a un certo punto ti autoconvinci che tu è lì che devi stare se ti capita la felicità non la vuoi perché pensi di non meritarla pensi che sia troppo per te e allora scappi scappi via quando invece la scoperta fatta a prezzo di errori così grandi perché veramente adesso io ci scherzo ma mazzate sulle palle che mi sono tirato per questa cosa ve lo dico non è stato non l'avete sentita ha detto pensa al marito perché non avevi il microfono lo continuo a fare ancora oggi figurati però almeno oggi lo so e quando sono lì al nono palleggio almeno mi faccio la domanda non è che è quella volta tipica in cui ti fermi e quindi qualche volta riesco a evitarlo però ammetto che è talmente radicato in me che continuo a farlo ancora oggi grazie Enrico per questa bellissima bellissima storia ci ho scritto un libro sopra sta cosa e quindi sfondi una porta aperta io vi ringrazio molto per aver ragionato con noi su dove ho sbagliato direi che ne abbiamo detti parecchi e quindi grazie mille Enrica Tesio grazie a voi grazie a voi grazie mille Enrico Galliano grazie e festival procede vi segnalo domattina in piazza Castello ore 8 e mezza al laboratorio di palleggi posso venire? assolutamente ospite speciale in taxi però ci andiamo tutti in taxi tutti in taxi con Lollo no peccato a pensarci prima lo facevamo veramente un workshop così in piazza sarebbe c'è tempo il prossimo anno grazie a tutti grazie a tutti